Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video, io sono Salvo Pimpos e oggi ritorniamo su Zulax perché dobbiamo fare la notte 2 Spero che questa volta mi sentiate un po' meglio di ieri perché giusto giusto oggi mi è arrivato il nuovo microfono e quindi oggi sto registrando con quello Spero che mi sentiate bene e più delle altre volte Cominciamo subito con la notte 2 e vediamo un po' quello che ne viene fuori perché mi avete detto che è più difficile rispetto alla prima E vorrei vedere, cioè nella notte 1 non si è visto niente, adesso vediamo nella 2 Grazie Grazie Dov'è? Dov'è? Qua Sennò che succede? Il principale è della tua energia Bello Anche in questo caso buona fortuna Grazie Arrivederci Porca la mica è questo Cioè non deve scendere sotto i 5 e non deve alzarsi sopra i 35 Bellissimo Come si esce? Come si esce da qua? Esci da qua Ok Allora mi devo ricordare qua c'è il puzzle Che già me lo sono scordato Qua c'è il puzzle, ok Ok Ah come vedete c'è il pulsante che c'è Ah bellissimo Non l'avevo visto questo pulsante qua Ok grazie a chi me l'ha consigliato A chi mi ha fatto capire che c'era Ok Quindi che devo fare? Ma lo sono scordato io già Ah di qua mi giro Ok bellissimo Di qua mi giro e non c'è niente E questo? E' normale che sia qua sto coso qua Salve C'è nessuno Chi è? Computer Eh non cominciamo però Non cominciamo Non cominciamo Qua non c'è niente Termostato Siamo Siamo A buoni livelli Chi è? Chi è? Che devo controllare qua Aiuto Aiuto che devo fare Nasconditi Ragazzi aiuto Che devo fare qua? Che devo controllare Ah il pozzo Il pozzo Dove devo controllare Dov'è? Qua non c'è niente Aiuto Aiuto raga Perché mi suona sta cosa qua? Venti Siamo a posto Ragazzi aiutatemi Perché io qua Io qua muoio Di infarto pure Scendi Scendi un po' Scendi un po' Scendi un po' Stai salendo troppo Chi è? Che Nasconditi Noo Che faccio? Te sei andato? Bravo Bravo Qua che c'è? Niente Aiuto Ragazzi ho paura Controlliamo qua Ah il pozzo Controlliamo il pozzo Non vedo niente Ok Ragazzi ho paura Termostato 17 Vai Puoi scendere ancora Corridoio Niente Chi è? No Non mi mandate il messaggio adesso Di nuovo Di nuovo La musica c'è Di nuovo Noo Sento passi Perché mi suona sto campanello di merda? Perché cacchio E' sta sirena Che cos'è? La camera qui? No No Nascondi Noo Chi è questo qua? Sento passi Aiuto 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 Ti prego Aiuto Ragazzi ho paura Di nuovo Noo Di nuovo Che cacchio è sto rumore così? 15 Non c'è niente 15 Nasconditi Mi nascondo Ragazzi fatemi sapere che cos'è sta allarme Di qua che non so che cacchio devo fare Controlla qua Contro Cambia mappa Cambia tutto Cambia Aiuto Quello sono le tre Che fa? Mi nascondo? Nasconditi Basta con sta allarme Ripristinati Ok bravo Corridoio Controlliamo qua Ah sali 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 No sali Ci stava fregando la batteria Quel computer del cacchio Qua non c'è niente Controlliamo il puzzle E qua Corridoio Niente No Non sconditi No Non ridere Tizio Bamboletta Chiunque tu sia Non mi de ridere Ti prego Fammi passare questa notte Aiuto Tanto lo so che adesso mi fanno lo jumpscare Porcaccia la pupazza Ok sali tu sali Corridoio No No Nasconditi No dai Ti prego Chi è? Che c'è? Chi è? Aiuto Porca Non so che fare Perché è suonata sta cosa qua? Sono le cinque Dai ti prego Fammi vincere Fammi vincere Controlliamo qua Controlliamo il pozzo Chi è che mi fischia? Non fischiate Per favore non fischiate Corridoio Cosa qua? Niente A posto Ti prego non fischiare Chiunque tu sia Sono le sei Dai ti smuovi però che sono le sei Perché perde tempo quando arriva alle sei? Mi vuole fare morire proprio fino all'ultimo Vi prego Vi prego No No Questo era il segnale che abbiamo vinto? O è il segnale che mi stanno uccidendo? Non lo so Sali Sali Allora Allora Si vince o non si vince? Dai Fatemi passare Cioè si arriva alle sette Allora Non alle sei Si arriva alle sette Non alle sei Corridoio Niente No No Passato Passato Ti prego Passato ragazzi Bellissimo Anche in questa notte non abbiamo visto nulla Fortunatamente Direi Aggiungerei fortunatamente Ma le cose si sono un pochettino complicate Nella notte 3 che cosa affronteremo? Ce lo dici? Aspettiamo il prossimo video Aspettiamo il prossimo video Chi è? Ciao Ciao Chi è Poggy? Dov'è? Dove? Sinistra Pura No Bellissimo Mi fa piacere Ragazzi Anche per noi Questo è tutto E ci vediamo al prossimo video Con Zulax E la notte 3 Bene ragazzi Oggi salutiamo Lorenzo Nicotera Nightkiller E Giuseppe Yelapi Ciao Se vi vi è piaciuto Ascettate un bel mi piace E condividetelo Seguitemi anche sulla pagina Facebook Instagram Twitter E tutti gli altri social Di cui trovate il link In descrizione Iscrivetevi al canale E per oggi è tutto Al prossimo video Ce la fai Non ce la fai Non ce la fai Non ce la fai Ho vinto Ho vinto Ho vinto Tizio Ciao Tizio Ciao Eh Almeno una la dovevo vincere Porcaccia la miseria